Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti al terzo appuntamento dei giovedì del Parri. Sono Filippo Focati, sono il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale Parri e stasera è un appuntamento secondo me particolarmente importante perché affronteremo una questione delicata, scottante, sconosciuta al grande pubblico, ovvero la questione dei crimini commessi da parte italiana durante la Seconda Guerra Mondiale nei territori occupati e lo faremo occupandoci di uno dei tanti episodi di violenza che hanno costellato l'esperienza dell'occupazione italiana nei Balcani, la strage di Domenicon, un piccolo paesino greco della Tessaglia. Ecco, qui nel febbraio 1943 le truppe della divisione Pinerolo misero in atto una rappresaglia per rispondere ad un'imboscata partigiana in cui erano cadute nove camisce nere italiane. Il paesino fu incendiato, gli abitanti rastrellati e circa 140 uomini, dai ragazzini agli anziani, esclusi i più vecchi, furono fucilati. Sedici greci per ogni italiano caduto. Questa vicenda è stata ricostruita magistralmente nel libro che presentiamo appunto stasera, il libro di Vincenzo Sinapi, Domenicon 1943, quando ad ammazzare sono gli italiani. Vincenzo Sinapi è un giornalista dell'ANSA che ha già dedicato altri lavori a vicende dell'esercito italiano, ha dedicato un lavoro ad esempio a Nassiria, quindi tutt'altra vicenda, tragica anche questa, e Vincenzo Sinapi ha potuto ricostruire la vicenda di Domenicon lavorando sulle carte giudiziarie. Questo è importante perché sì, la strage di Domenicon forse è stata l'unica tra le stragi compiute dagli italiani durante la seconda guerra mondiale, che è stata oggetto di un'indagine giudiziaria, promossa dal procuratore militare Roma Marco De Paulis, che abbiamo il piacere di avere qui con noi stasera, e che saluto. È un'indagine, certo, che purtroppo non è riuscita ad approdare, diciamo, alla giustizia, ad assicurare alla giustizia i responsabili. Troppi anni sono ormai passati dai fatti. Ecco, però la vicenda di Domenicon, che è quindi anche una vicenda di giustizia mancata, forse sarà uno degli argomenti di cui discuteremo sicuramente, sarà uno degli argomenti di cui discuteremo stasera, la vicenda di Domenicon, dicevo, è comunque una vicenda esemplare, perché è una vicenda su cui a un certo momento, una decina di anni fa, è stata richiamata l'attenzione dell'opinione pubblica, perché su questa strage è stato pubblicato, è stato messo in onda un documentario televisivo italo-greco, La guerra sporca di Mussolini, siamo proprio nel 2008, che ha fatto conoscere la vicenda, ha smosso anche un po' le acque, ha richiamato l'attenzione sia dell'opinione pubblica sia delle istituzioni. Tanto che proprio l'anno successivo alla messa in onda di questo documentario, nel 2009, l'ambasciatore italiano in Grecia, Giampaolo Scarante, si è recato a Domenicon e ha partecipato alle commemorazioni della strage. È la prima volta che un'autorità italiana faceva un atto di questo genere. E ho il piacere anche stasera, abbiamo il piacere di avere con noi Giampaolo Scarante, appunto già ambasciatore italiano ad Atene. Ma adesso permettetemi di procedere e presentare tutti i relatori, a partire da Isabella Insolvibile, che è storica, membro del CBA del Parri, del Consiglio di Amministrazione del Parri, collaboratrice della Fondazione Museo della Shoah, studiosa delle stragi commesse da parte tedesca contro militari italiani durante la Seconda Guerra Mondiale, ricordo in particolare Cefalonia e COS, e anche molto noto, direi, di Rai Storia. Poi abbiamo, avevo già menzionato, il procuratore generale militare Marco De Paulis, che qui vorrei ricordare anche come protagonista in discusso della stagione, dell'importante stagione dei processi, di processi fatti dall'inizio degli anni 2000 in poi contro criminali di guerra tedeschi per stragi commesse in Italia. Ricordo che sono stati combinati oltre 50 condanni all'ergastolo per responsabili delle peggiori stragi commesse a danno di italiani, da Sant'Anna e Stazema, Montesole e Marzabotto, la stessa Cefalonia. Ecco, in questi processi Marco De Paulis ha avuto un ruolo veramente da protagonista. E poi Gian Paolo Scarante, avevo già ricordato in precedenza, già ambasciatore italiano in Grecia, presidente dell'Ateneo Veneto e, devo dire, anche collega dell'Università di Padova in questo momento. Insegniamo, tra l'altro, nello stesso corso di laurea in relazione internazionale e diplomazia, dove il professor Scarante tiene il corso di teoria e tecnica del negoziato internazionale. Infine, Lutz Klinkham, vice direttore dell'Istituto Storico Germanico di Roma, principale studioso dell'occupazione tedesca dell'Italia, già membro della Commissione degli Storici Italo-Tedesca, consulente più volte anche di tribunali italiani e tedeschi impegnati nei processi contro criminali di guerra tedeschi e, devo dire, anche prefatore insieme a me del libro di Vincenzo Sinapi. Vincenzo Sinapi, appunto, è con noi l'autore, l'ho già presentato. Adesso procederemo in questo modo. Il primo intervento sarà di Isabella Insolvibile, che appunto parlerà del libro, ci illustrerà il libro. Poi avremo intervento di Gian Paolo Scarante, quindi Marco De Paulis, per chiudere Lutz Klinkhamer e poi daremo, come dire, diritto di replica, non so se si può dire così, a Vincenzo Sinapi. Dopodiché ci sarà uno spazio anche per un'interlocuzione col pubblico, quindi se avete domande da porre, ponetele. Igor Pizzi Russo, che è in regia, raccoglierà le vostre domande, ce le passerà e prevediamo una parte, appunto, finale di discussione in cui ci sarà modo anche di rispondere alle vostre domande. Il tutto, dovremmo riuscire a fare tutto questo entro poco più di un'ora, cioè vorremmo chiudere per le 19 e un quarto, 19 e 20. Quindi ecco, questo è anche un invito ai nostri relatori ad avere tempi adeguati a Zoom, per così dire. Benissimo, allora iniziamo subito e do la parola al primo relatore che è Isabella Insolvibile. Prego Isabella. Grazie Filippo, buonasera a tutti. Io ringrazio per l'occasione, è un'ottima cosa parlare di questo libro e di questo episodio della nostra storia nazionale il giorno dopo il nostro anniversario dell'Unità Nazionale, perché Domenicon dovrebbe essere un luogo della nostra memoria nazionale, sebbene all'estero. Non lo è, cercheremo di dire perché, anche grazie a questo bel libro di Vincenzo Sinapi. vi voglio mostrarlo, cercherò di essere il più breve possibile, non possiamo pungolarci data la distanza, ma cercheremo di fare i bravi lo stesso. Io voglio innanzitutto fare i complimenti a Vincenzo per il modo di scrivere, e questo me lo aspettavo, del resto lui è un ottimo giornalista, ma anche per l'attenzione alle fonti che presta all'interno del suo libro. Sa che su questo tema noi storici siamo particolarmente sensibili, e lui è comportato praticamente quasi da storico. Non per niente, del resto la prefazione di questo volume è scritta da due dei più importanti conoscitori del tema, storici italiani, cioè Filippo Focardi e Lutz Klinkammer, che parlano appunto della loro prefazione di un volume scritto con grande precisione analitica e sacrosanta, apprezzo l'aggettivo, passione civile. C'ho due piccolissime critiche che faccio subito, così mi tolgo il pensiero perché mi spettano. La foto di copertina, che non sono certa che sia relativa a Domenico, noi abbiamo dei grossi problemi con l'iconografia delle stragi, perché le foto sono poche, sono poche e rare, e del resto non è indicata la fonte, quindi te lo dico per un'eventuale ristampa e per un'eventuale ristampa che mi auguro e ti auguro un bel indice dei nomi e dei luoghi, che è tanto importante per quelli che studiano queste cose, ma anche per coloro che leggono. Allora, il volume è diviso in quattro capitoli, preceduti da una bella prefazione di Lutz Klinkammer e Filippo Focardi, che appunto da esperti riescono a riassumere in pochissimo spazio, in un spazio piccolissimo, un tema immenso e sterminato, sul quale ci arrovelliamo praticamente ogni giorno della nostra vita professionale e non solo. Trattano moltissimi temi, voglio dirne solo uno brevemente, cioè la difficoltà di parlare di questa tematica anche nel dibattito pubblico odierno. E l'Italia in questo rappresenta un po' un caso unico in Europa, soprattutto scrivono, se confrontate ovviamente alla Germania, ma anche alla stessa Francia, che anche se tardi sta facendo da un po' di tempo i conti con la sua storia nazionale, con le colpe appunto della nazione. Poi quattro capitoli. Nel primo capitolo Vincenzo Sinapi affronta appunto il tema della mancata giustizia dei crimini, sia ai danni degli italiani, sia quelli, soprattutto nel suo tema, quelli compiuti dagli italiani. È una storia lunga e molto complessa, su cui si è scritto e si continua a scrivere molto, che passa attraverso alcune tappe fondamentali, come l'occultamento dei fascicoli relativi alle stragi, le ragioni che la storiografia ha individuato come politiche di tale occultamento, la commissione parlamentare di inchiesta e le sue divergenti conclusioni. Il capitolo si conclude con le poche, per quanto importanti scuse, che l'Italia ufficiale ha presentato a Domenicon. L'ambasciatore Scarante appunto nel 2009 e il procuratore dei Paulis più recentemente. Dobbiamo dirlo, non è niente di plateale, niente di paragonabile ai presidenti tedeschi che si sono venuti a inginocchiare nel nostro paese a Sant'Anna di Staziamo e a Marzabotto. E come scrive appunto Statis Epsomiadis, il presidente dell'Associazione delle Vittime di Domenicon, questo paesino sta ancora aspettando che l'Italia si assuma ufficialmente, concretamente, anche platealmente se vogliamo, le responsabilità per l'accaduto. Lo Stato italiano è a suo parere, di Epsomiadis ma penso anche di Sinapi, colpevole in due sensi, per aver mandato le truppe quella mattina a Domenicon e per aver negato la giustizia alle vittime e ai discendenti delle vittime. Secondo capitolo invece si ricostruisce appunto sulla base della fondamentale documentazione acquisita durante l'indagine di De Paulis la strage nei suoi presupposti, innanzitutto l'attacco partigiano alla colonna viveri italiana che provoca nove morti appunto tra gli italiani, militari, camiceniere e carabinieri. Poi la rappresaglia relativa a Domenicon che si svolge sostanzialmente in due tempi. Innanzitutto gli italiani fucilano immediatamente tutti quelli che riescono a catturare, che siano partigiani o mei o presunti tali, favoreggiatori. Le fonti italiane sono molto esplicite in questo, non tacciano sul fatto che queste persone, questi elementi così definiti dalle fonti, vengono massacrati sul momento. Sono episodi che noi oggi inseriamo tra le stragi di Nermi, quella della fucilazione delle persone catturate, disarmate e messe al muro. Poi appunto l'eccidio di Domenicon, dove arriva una colonna italiana guidata dal tenente colonnello Amedeo De Paula, che è il comandante del secondo gruppo squadroni del reggimento Lanceri Milano e che comprende anche una compagnia di camicenere e un plotone mortai della Pinerolo. Arriva a Domenicon e ha gli ordini che provengono dal comando della Pinerolo di uccidere tutti i maschi, che compresi da un'età dai 14 anni in su, ci si ferma solo, Vincenzo Sinapi lo scrive bene, dinanzi alle persone che in bocca non hanno più i denti perché sono evidentemente troppo anziane per essere ritenute pericolose. Questa strage non avviene al momento perché gli uomini vengono incolonnati e costretti a marciare per ben tre ore o quasi tre ore fino ad arrivare in questa radura a Damasuli dove verranno uccise 97 persone. La strada per arrivarci però, come ci raccontano le fonti, è disseminata di cadaveri. Sono quelli che poi arriveranno a formare quella cifra, che comunque è ancora in dubbio, di circa 150 vittime. In questo capitolo, che è il secondo, appunto, Sinapi esamina anche la catena di comando facendo notare che tutti i livelli gerarchici delle forze armate italiane sono a conoscenza e concordano sulla diffusione della strage, della rappresaglia, perché quella di Domenico è senza dubbio una rappresaglia, cioè gli italiani si vendicano sui civili per l'attacco subito dai partigiani. È però una reazione indubbiamente spropositata che a chi la sa leggere denuncia anche la situazione di evidente difficoltà delle forze armate italiane che non sanno affrontare in modo diverso l'attacco della guerra partigiana. Qual è il problema? Che sostanzialmente gli italiani non si aspettano che la resistenza greca possa essere così forte e avere così tanto successo, così un po' come non si aspettavano la resistenza dell'esercito greco quando qualche mese prima eravamo andati a spezzare le reni alla Grecia. Infatti la cosiddetta, quella che noi chiamiamo ancora campagna di Grecia, fu in realtà combattuta quasi interamente in Albania perché gli italiani non riuscirono a entrare nel paese ellenico se non quando ce li portarono per mano i tedeschi. Quindi è una rappresaglia l'Eccidio di Domenico ma è anche una lezione salutare, così dicono le fonti, così dice la relazione di consulenza di Elena Santarelli che era appunto la consulente della procura durante le indagini, che gli italiani vogliono offrire ai greci innanzitutto ma anche agli alleati tedeschi. Sono un po' in crisi di credibilità perché non riescono a controllare il territorio che stanno occupando e quindi forse è anche una strage preventiva, una strage che definiremmo oggi per il controllo del territorio. Terzo capitolo. Nel terzo capitolo si esamina, ed è un capitolo molto importante secondo me, lo sono tutti, però a questo tengo in particolare, il come e quando l'Eccidio di Domenico si è arrivato alla conoscenza della magistratura militare italiana e quali siano state le conseguenze di questo più che tardivo interessamento. Avviene sulla scia del documentario che citava Filippo Focardi poco fa, avviene sulla scia dell'interessamento di alcuni organi di stampa e dell'interessamento del procuratore militare di Padova, Sergio Dini, che va a sollecitare Roma, i colleghi romani, che sono quelli che dovrebbero occuparsi di Domenico perché i casi esteri avvenuti all'estero sono di competenza di Roma. Questa sollecitazione un po' esterna mi ha ricordato, sarà la deformazione professionale, quello che era avvenuto poco tempo prima per quanto riguardava Cefalonia. L'indagine relativa a Cefalonia scatta soltanto quando c'è un movimento di opinione pubblica di parenti delle vittime che spingono in pratica la procura di Roma, allora guidata da Antonino Intelisano, ad aprire un'indagine relativa all'Eccidio dell'Isola Ionica. che tra l'altro era trattato addirittura da una procura tedesca ma che non veniva trattato da una procura militare. Poi la strategia investigativa dunque che mette in atto la procura militare di Intelisano in quegli anni io la definirei almeno un po' singolare perché soprattutto se poi la confrontiamo a quella che Sinapi tratta nel capitolo successivo cioè quella della procura di De Paulis per l'indagine su Domenicon. E' come se la procura militare in quel periodo scoprisse tutto il grande tema dei crimini italiani durante la seconda guerra mondiale in un arco spazio temporale molto esteso che va addirittura a prima della seconda guerra mondiale con l'Etiopia e arriva fino appunto a Domenicon ma anche ai Balcani alle stragi in Yugoslavia. Scopre anche l'occultamento di questi crimini nella coscienza collettiva ma anche per quello che riguardava le indagini che la magistratura avrebbe dovuto svolgere dal dopoguerra in poi. In pratica l'inchiesta di Intelisano verte su tutto ed è una appunto singolare strategia dell'ampliamento perché in quel momento si cerca di indagare sul caso singolo specifico di Domenicon occupandosi un po' di tutto di Robotti, di Roatta addirittura di Graziani e di Badoglio insomma di questi grandi nuovi roboanti sono per forza persone che a quel punto non sono più in vita e che la loro morte pur non centrando nulla con la strage di Domenicon porterà all'archiviazione alla richiesta di archiviazione anche della strage di Domenicon. Anche in questo caso questa strategia dell'ampliamento mi ha ricordato qualcosa che ho studiato personalmente cioè le strage ai danni di militari italiani avvenute all'estero dopo l'armistizio anche queste erano ovviamente di competenza della procura romana ed erano state indagate quando era stato fatto richiedendo informazioni alla Germania su lunghe liste di nominativi spesso errati e relativi a casi diversi ma non specificamente indicati e di tipologie diverse ad esempio includenti gente come Kesserling Albert non meglio identificato generale così la fonte e soldati praticamente anonimi che non si riusciva a collocare in specifici episodi il risultato era stato che le autorità tedesche per quanto avessero voluto collaborare non erano riuscite a individuare quasi nessuno dei nominativi e ciò era bastato alla procura la stessa procura di Roma per chiedere l'archiviazione solitamente accordata di casi specifici insomma delle strategie molto simili che vengono applicate a distanza di anni per casi italiani e per casi invece commessi da italiani questa strategia lo scrive bene Sinapi non la chiama così però io l'ho interpretato in questo modo ha riguardato anche Domenico nel cui il caso praticamente è rimasto soffocato dall'indagine generale sui crimini italiani nei Balcani o insomma in altre parti del Mediterraneo da nomi roboanti come quelli di Roatta Robotti e chissà chi altro e che erano ovviamente morti ma che non c'entravano nulla con Domenico la loro morte però ha fatto archiviare anche l'indagine su Domenico che però si è riaperta grazie alla procura al procuratore successivo che è appunto Marco De Paulis e alla sua squadra alla quale devo dire Sinapi rende merit ed è bene che lo faccia perché il procuratore De Paulis anche per quanto riguarda le indagini italiane è stato sempre affiancato da una squadra di carabinieri di militari molto esperti nel lavoro che dovevano fare e molto volenterosi di farlo che sono riusciti a ottenere risultati molto importanti questa procura si concentra proprio su Domenico e su Domenico e null'altro e quindi riesce a ricostruire lo svolgersi della strage trova superstiti e testimoni interroga testi italiani interroga le vittime prendendo nella categoria di vittime non soltanto coloro che sono morti ovviamente nel 43 ma anche quelli che sono vissuti in morte dei loro parenti dei loro padri dei loro cari uccisi quella mattina nei loro confronti si riscontra la stessa attenzione la stessa cura voglio usare questo termine rivolta ai luoghi italiani della nostra memoria rivolta a Marzabotto a Sant'Anna di Stazzema a Civitella e così via emergono in pieno le responsabilità emergono i nomi e i cognomi di coloro che hanno emesso trasmesso ed eseguito gli ordini palesemente criminali emerge per esempio il nome del tenente colonnello Amedeo De Paola al capo di quella colonna che arrivò a Domenico che prima non era emerso ma del resto non nessuno lo aveva cercato purtroppo è troppo tardi e i possibili indagati di questa inchiesta sono tutti morti e si è perso effettivamente del tempo prezioso si è perso ancora dopo la scoperta per tutti i casi quelli italiani e quelli esteri nel 2018 l'inchiesta si deve fermare di fronte alla morte dei presunti colpevoli grazie a questa indagine però ci resta molto ci restano le fonti indubbiamente e ci restano anche i segni di un'attenzione di almeno alcuni settori dello Stato concludo dicendo due cose che Sinapi ha compiuto con questo suo lavoro che sarà molto prezioso per noi storici per questo lo ringrazio l'analisi dettagliata della strage evidenziando che cosa evidenziando non solo il singolo evento ma ciò da cui l'evento è derivato quindi i presupposti quelle che chiameremo ma male perché è troppo superficiale le ragioni scatenanti sia le conseguenze le conseguenze sono di tre tipi sono di breve periodo sono quelle relative alla distruzione di una intera comunità con vedove e orfani delle vittime ridotte la fame senza più posto un posto dove vivere o mezzi per sfamarsi sono vittime della strage uguali ai morti le conseguenze di medio periodo invece riguardano gli eventi successivi all'armistizio quando la divisione Pinerolo che era stata praticamente incaricata dai comandi italiani di occuparsi della lotta contro la resistenza viene nonostante cerchi di resistere ai tedeschi e cerchi l'appoggio dei partigiani viene in realtà disarmata da questi internata nei campi perché i partigiani non riescono a fidarsi di coloro che li hanno sterminati hanno sterminato i civili fino a un attimo prima le conseguenze di lungo periodo sono invece relative alla mancata giustizia per la strage e dunque all'incapacità per gli abitanti di quella comunità di trovare una qualche pacificazione con il passato io credo che questo paesino della Tessaglia e forse qualcun altro sia uno dei pochissimi luoghi in Grecia dove non ha tecchito non si è mai diffuso il mito della stessa fazza stessa razza che sarebbe la versione greca del bravo italiano per il resto non è mai servito neanche a fini turistici perché Domenico non è una meta del turismo italiano oppure se dovrebbe esserlo dovrebbe essere soprattutto una meta della memoria italiana se Igor la fa vedere io ho trovato una foto sul proprio facebook di un collega Marco Clementi relativa alla commemorazione del 2015 dove si vede Epsomiadis ma soprattutto si vede una delegazione di italiani sul luogo della strage io credo che questi siano degli italiani volontari che ci sono andati per scelta personale quindi insomma non si può dire che tutti gli italiani non ricordano ma che gran parte degli italiani non sanno si può dire grazie Igor io di solito quando racconto ai ragazzi nelle scuole le stragi le stragi del mezzogiorno le stragi in Italia di cui mi occupo faccio vedere quel pezzetto della guerra sporca in cui parla la mamma di Epsomiadis quindi la figlia della vittima della strage di Domenico è un pezzetto di un docufilm italiano che si chiama Terra bruciata che è relativa alle stragi nel Casertano ci sono due figlie la figlia della vittima di Domenico e la figlia della vittima di Conca della Campania una strage fatta dai tedeschi sono due vittime ugualmente sono due vittime del dolore irreparabile della perdita del loro genitore e della giustizia negata io credo che sia il nome di questa ugualianza tra queste vittime che dovremmo effettivamente fare uno sforzo come nazione rimediando alla indifferenza che abbiamo dimostrato come stato ammettendo le responsabilità e dicendo a Epsomiadis praticamente che lui ha torto Epsomiadis ha scritto a De Paulis che il destino delle persone povere è semplici come quelle di Domenico e che nonostante abbiano ragione questa non gli verrà mai riconosciuta credo che sebbene sia tardi per fare giustizia dal punto di vista della magistratura sia il momento di dare ragione agli abitanti di Domenico e andare concretamente ad affrontare la nostra storia nazionale ti ringrazio Vincenzo per questo sforzo Grazie grazie mille davvero Isabella per questa ricostruzione lucida appassionata del libro e hai messo in evidenza questioni molto importanti ricordo che all'inizio hai esordito dicendo che Domenico dovrebbe essere un luogo della memoria nazionale italiana è importante questo e ovviamente ti sei soffermata anche su questa figura statista psomiadis uno dei familiari delle vittime il presidente dell'associazione dei familiari delle vittime di Domenico protagonista anche di questo documentario di cui abbiamo parlato la guerra sporca di Mussolini bene psomiadis come tu hai ricordato più volte come dire ha chiamato in causa lo stato italiano ecco però noi stasera abbiamo due rappresentanti dello stato italiano che hanno fatto qualcosa per rispondere a questo appello di psomiadis e vorrei subito passare la parola a uno di questi che ha avuto un ruolo molto importante a mio avviso appunto Gianpaolo Scarante già ambasciatore italiano in Grecia e prego Gianpaolo Scarante grazie 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 per l'invito grazie perché in questa occasione il libro di Sinapi io lo interpreto non come un libro storico ma soprattutto come un libro diciamo di impegno civile nei confronti dell'Italia e degli italiani quanto mai necessario e cercherò di spiegare perché devo fare una premessa quando arrivo in Grecia siamo nel 2006 io avevo una situazione di questo genere dei rapporti fra Italia e Grecia molto buoni come diceva esemplari in ogni caso ottimi su cui però gravava come un'ombra minacciosa era l'ombra della storia il nostro attacco alla Grecia come sapete dell'ottobre del 40 fu un atto vile ingiustificato ma che ebbe conseguenze catastrofiche non solo per noi italiani che perdemo 13.000 soldati in maniera assolutamente assurda per i greci che ne persero ancora di più ma perché ebbe conseguenze anche sul piano diciamo storico della guerra nel senso che la Grecia forse senza l'attacco italiano non sarebbe nemmeno entrata in guerra forse senza l'attacco italiano le comunità ebraiche non sarebbero state sterminate a Sadonico insomma conseguenze enormi e per togliere questa nuvola dai rapporti Italia e Grecia io credo che l'unica via nessuno ancora convinto sia quello di affrontare le pagine della nostra storia anche quelle più difficili in maniera aperta e solo affrontando le cose componendole che si può andare avanti questo è il principio che ho seguito e che ha portato alla mia presenza domenico in altri luoghi che ha portato su un altro piano a valorizzare per esempio la figura di un italiano Guelfo Zamboni console a Salonico che aveva un ruolo importantissimo nel salvare per esempio parte della comunità ebraica noi abbiamo lasciato pubblico gli atti di Salonico che aprono una pagina molto interessante su queste vicende e poi quello che ritengo simbolicamente il gesto più forte che è ancora oggi alla base di tutto quello che è successo poi ad oggi ed è quello della mia presenza la parata di Salonico nel 2009 a fianco del Presidente della Repubblica Papugna la parata di Salonico nell'ottobre era la parata che celebrava la vittoria sugli italiani vedere quindi l'ambasciatore d'Italia e il Presidente della Repubblica alla parata che era l'epopea della guerra contro gli italiani voleva dire una cosa che quei fatti definitivamente erano entrati nella storia e non intaccavano più i presenti ecco perché Domenicon anch'io so io sono entrato come posso dire nella storia di Domenicon grazie a quel documentario e credo che sia una colpa una colpa nostra mia di tutti noi collettivamente quel documentario che tra l'altro la nostra televisione nazionale non diffuse ma probabilmente tende nel cassetto mi mi fece comparire questo evento non è una prassi che l'Italia segue sistematicamente qualcuno di voi ricorderà che nel lontano 1981 viene fatto un film che si chiama Il Leone del Deserto che racconta la lotta di Omar Nukhtar il leader libico contro l'occupazione italiana per 30 anni questo film non è stato possibile vederlo in Italia 30 anni 31 anni perché è stato censurato e la motivazione era che era l'esivo dell'onore dell'esercito italiano parole che ritorneranno su Domenico e poi ve le dirò allora io arrivo a Domenico perché nell'ultima parte del documentario il sindaco che allora era Anastasio Spassio un simpatico signore che ha studiato in Italia finiva con una stilettata che mi è arrivata diciamo in pieno viso e dice è su tutto questo dice nessun ambasciatore italiano ha mai messo piede qui a Domenico ecco questa l'ho sentita come una cosa bruciante chiamo subito il sindaco Passi e gli dice guardi se lei mi invita io vengo dice va bene dice facciamolo e così l'abbiamo fatto lui mi ha invitato e io sono andato ma un ambasciatore può fare una cosa del genere senza un lavoro preparatorio no un ambasciatore non è un libro professionista non può dire io vado di qua vado di là valutando le cose ho dovuto fare tutto un lavoro che vi racconto brevemente perché è significativo ai fini di quello di cui stiamo parlando col Ministero degli Esteri spiegando che io sarei andato a Domenico per una serie di ragioni prima di tutte le quali credo che le cose vadano affrontate e non rinviate o nascoste sotto il tappeto come noi normalmente facciamo e devo dire che sul fronte del Ministero degli Esteri allora vi era un direttore generale delle relazioni con l'Europa che era una padovana di grande intelligenza che si chiama Laura Miracchia che qualcuno conoscerà perché vive tuttora a Padova che comprese questo spirito e tutte le reticenze che l'ufficio giuridico del Ministero faceva sulle responsabilità possibili eccetera le mise da parte disse no dice è una cosa da fare oggi in questo momento sul fronte del Ministero della Difesa fu molto più difficile innanzitutto perché non chiese un'autorizzazione al Ministero della Difesa io la chiesi agli Esteri che era il mio riferimento però dal Ministero della Difesa mi cominciarono ad arrivare una serie di messaggi piuttosto come posso dire non dico minatori ma erano sul crinale tra il minatorio e il non minatorio si diceva guarda che se l'ambasciatore va a Domenico e poi qualcuno rispolverà la causa penale civile capace che l'ambasciatore ne è coinvolto addirittura civilmente in questa storia una cosa assurda che non era vero però per dirgli come si ragionava e poi anche cose diverse dice l'ambasciatore non dovrebbe andare non dovrebbe andare perché la sua presenza indipendentemente da quello che fa e da quello che dice è lesiva dell'onore dell'esercito italiano testuali parole quindi questo per dirvi l'idea di come ci fosse una sfasatura assoluta tra quello che si pensava su questo tipo di cose e la realtà delle cose io poi vado a Domenico vado con mia moglie vado col corrispondente dell'ANSA incontro il sindaco Paisso ce lo scopro una persona garbatissima ha studiato in Italia quindi anche parlava perfettamente dell'italiano e poi partecipa a questa cerimonia che si svolge prima sul luogo dell'eccidio un luogo terribile io non so se voi avete notato ma i luoghi che hanno storie drammatiche catastrofiche o tragicamente umanamente terribili hanno come una loro forza interna che ti racconta queste cose tu vai in un posto e dici guarda qui è successo qualcosa di terribile ecco andare sul luogo dell'eccidio di Domenico si ha queste impressioni è una sensazione fortissima lì fece un mio discorso c'erano tutte le autorità greche civili militari c'erano molti 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 parenti dei sopravvissuti perché molti parenti dei sopravvissuti vengono dall'estero per la ricorrenza quindi c'era moltissima gente sono state quattro cinquecento persone e poi ci fu un'altra cerimonia in città e poi cortesemente il sindaco mi fece addirittura consegnare i diplomi ai bambini meritevoli della scuola quindi per dirvi l'atmosfera ora io mi sarei atteso una qualche ostilità cioè avevo anche parlato con i miei collaboratori e dice comprenderei perfettamente una situazione del genere invece l'atmosfera che trovai fu completamente diversa fu quella di una grande serenità e la presenza dell'ambasciatore d'Italia invece di esacerbare i ricordi insomma curiosamente ha qui questa situazione di serenità come se qualcosa si fosse compiuto una donna me lo disse anzi noi dice l'aspettavamo da anni come per dire guardi dovevate venire prima non è che voi venite a mettere la vostra colpa voi venite a dire che questa cosa che ha chieduta e io lo dissi vengo dico anch'io con serenità perché io rappresento un'altra Italia io sono qui per riconoscere i crimini gli orrori fatti dall'Italia fascista che vi scatenato alla guerra però sono anche sereno perché io oggi rappresento un'Italia che è democratica che è civile che una cosa del genere non farebbe male ecco questa fu l'atmosfera che noi trovammo in quella sede e che devo dire fu un momento di grandissima intensità anche emotiva anche però io oggi vorrei concludere questo mio breve intervento dicendo una cosa che considero molto seria guardate noi italiani abbiamo un problema grandissimo un problema con la nostra identità collettiva un problema serissimo che ci crea moltissimi problemi anche oggi come affrontiamo la pandemia per esempio qual è questo problema? il problema è che a fronte di eventi cioè io ho notato e quando si è all'estero si rappresenta l'Italia come posso dire questa cosa è forse più forte perché in qualche modo devo trasmettere all'esterno noi italiani nei confronti nostri o siamo estremamente critici a volte ipercritici eccessivamente critici su cose che magari non meriterebbero di essere criticate o siamo estremamente assolutori cioè ci consideriamo superiori a certe cose perché tutto sommato siamo brava gente o a volte siamo completamente non vogliamo affrontare certi argomenti Domenico non è tutta una serie di cose rientra in questa categoria noi italiani il passato coloniale il dopo guerra perfino il nostro risorgimento ci sono alcuni aspetti difficili che preferiamo non affrontare li mettiamo sotto il tappeto ecco così facendo la nostra identità collettiva ne esce fortemente ridimensionata citava prima Isabella Insolvibile ma ieri è avvenuto qualcosa che se non fosse avvenuto in Italia sarebbe straordinario sarebbe incredibile ieri abbiamo ricordato i 160 anni dell'Unità d'Italia una festa nazionale istituita in 1911 a parte un discorso a una breve messaggio rituale del Presidente della Repubblica non c'è stato nulla non c'è stata una trasmissione televisiva che abbia parlato di questo nemmeno nel notiziario è stata data questa notizia ed è l'Unità d'Italia la base fondante del nostro vivere civile insieme allora io credo questo io sono andato a Domenico e ho fatto altre cose come vi dicevo l'ho fatto sì per i greci perché era giusto andare lì farsi vedere riconoscere le cose ma l'ho fatto soprattutto per noi italiani per me italiano per noi italiani perché noi non possiamo proseguire nella nostro percorso collettivo se non guardiamo con coraggio a pezzi della nostra storia che continuano a uscire da tutte le parti e noi non vogliamo vedere perché il discorso che porta avanti Sinapi non è un discorso esclusivamente storico qua stiamo parlando di un discorso di impegno civile che tocca il nostro paese in maniera molto profonda guardate è straordinariamente importante che gli italiani parlino di queste cose e le parlino con coraggio noi per esempio quando parliamo della Libia vi citavo prima il libro nel film Il nostro passato coloniale la nostra seconda guerra mondiale tutto viene diluito in italiani brava gente che sono simpatici o non simpatici questa anche questa è realtà perché io in Grecia bagando fra questi luoghi della seconda guerra ho visto la bontà degli italiani è vera esiste non è che non c'è ma gli italiani non sono diversi dagli altri popoli nelle condizioni orribili di una guerra di una situazione drammatica come i popoli reagiscono come gli altri italiani questo dobbiamo accettare e dobbiamo parlarne ma non soltanto a livello storico ma a livello collettivo perché non possiamo pensare che tutto il male non è mai ci scivola sempre via e noi di male ne abbiamo fatto come abbiamo fatto del bene come i paesi lo fanno io prima veniva citato quando arriva in Grecia andrei a trovare l'ambasciatore tedesco e rimasi colpito l'ambasciatore tedesco girava continuamente per il paese perché il suo governo gli aveva imposto di essere presente a tutte le celebrazioni di ecidi di cose orribili della seconda guerra mondiale e siccome i tedeschi ne hanno fatti tantissimi in Grecia come altrove l'ambasciatore tedesco era continuamente in giro a prendere parte a queste cose e invece noi per poter garantire la mia presenza a Domenico abbiamo dovuto fare un'operazione politica e diplomatica che è durata a mesi ecco questa è tutta la differenza tra quello che dovremmo essere e quello che siamo e quindi è giusto che ci siano libri come Vincenzo Sinapi ma sarebbe altrettanto giusto che i libri come Vincenzo Sinapi aprissero un dibattito a livello globale in Italia non solo a livello storico che noi cominciassimo a parlare di chi siamo non siamo il paese che ricorda le sconfitte noi ricordiamo Caporetto noi ricordiamo Vincenzo benissimo facciamo sempre così siamo strani ricordiamo Iralamene non ricordiamo l'unità d'Italia siamo un paese strano però l'unico modo per uscire da questa situazione da avere un salto di qualità nella nostra identità collettiva è stare meglio tutti noi agire meglio come paese essere più efficienti essere più incisivi in tutto è questa parlare delle cose qualcuno dirà ma è difficile certo che è difficile ma dobbiamo farlo perché è difficile non perché è facile altri paesi l'hanno fatto con grande fatica se noi pensiamo alla Spagna della guerra civile certo rienergono cose terribili ma il paese complessivamente ha composto quella terribile frattura se noi guardiamo la Germania nazista oggi come guardi nazismo certo è complicatissimo è difficile ma c'è un rapporto molto forte su questo un rapporto che riconosce responsabilità noi siamo sempre autoassolitori nei nostri confronti quindi benvenga il libro di Sinapi perché noi non dobbiamo autoassolversi ma dobbiamo trovarci colpevoli quando siamo colpevoli e trovarci innocenti quando siamo innocenti cosa che noi non amiamo a fare purtroppo bene io finisco qui il mio intervento ridò la parola credo a Filippo Focardi e ringrazio ancora perché questa occasione è un'occasione credo importante per tutti noi grazie grazie davvero Gian Paolo Scarente questa è una testimonianza molto importante la trovo molto importante e emerge ancora di più il valore del gesto che hai compiuto nel 2009 io non sapevo delle difficoltà me le potevo immaginare ma non lo sapevo le difficoltà che erano arrivate dal Ministero della Difesa e anche una difficoltà di costruire diplomaticamente quell'atto io avevo notato che avevo molto apprezzato il gesto ma avevo anche notato che non se ne era parlato in Italia io ho trovato appunto un comunicato ANSA appunto mi conferme c'è un giornalista dell'ANSA con te ma non non c'è stata un'attenzione della stampa nazionale non so se questo è stato voluto magari questo low profile è stato voluto alle nostre istituzioni ma sicuramente quella è la strada io sono perfettamente in sintonia con quello che hai detto mi viene in mente anche mi vengono in mente alcune riflessioni che aveva fatto l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ma so che Mattarella è assolutamente sulla stessa lunghezza d'onda che in occasione di una visita congiunta con mi ricordo quale dei Presidenti della Repubblica tedesco su un luogo delle stragi naziste in Italia lui ricordò come figura iconica di riferimento per tutti gli europei quella di Willy Brandt il cancellare tedesco che nel 1970 in visita a Varzavia si inginocchia davanti al monumento che ricorda il ghetto di Varzavia la rivolta al ghetto di Varzavia il napolitano disse quello deve essere il nostro modello dobbiamo costruire appunto una memoria europea riconciliata che fa i conti col passato e appunto come tu hai detto i tedeschi lo stanno facendo altri paesi lo fanno certo con difficoltà però noi italiani ancora stentiamo a farlo e trovo del tutto fuori luogo questa idea che ricordare alcune malefatte alcuni crimini italiani significa ledere l'onore dell'esercito italiano non è così non è mettendo queste pagine sotto mettendo sotto il tappeto la polvere che si difende l'onore anzi si difende l'onore io ci tengo a questa cosa l'onore dell'esercito come delle altre istituzioni se si riconoscono le colpe le fate i pregi e i difetti le colpe tu stesso hai fatto è stato molto chiaro in questo quindi ecco io ringrazio particolarmente questa testimonianza che trovo molto molto importante e adesso con piacere do la parola al procuratore Marco De Paulis che lui ha provato a rendere giustizia alle vittime di Domenico e però appunto ha dovuto fare questo con tanti tanti troppi anni diciamo di ritardo dai far prego Marco grazie grazie dell'invito grazie di questa opportunità e naturalmente grazie a Vincenzo Sinabi per averci aver provocato questa opportunità con con questo con questo libro con questo bel libro che che ci fa che ci fa riflettere molto non anch'io devo sottolineare che l'aspetto principale del del valore di questo libro è la è proprio l'aver attirato l'attenzione su una vicenda e su vicende su tante vicende o sconosciute o conosciute o peggio conosciute male cioè deformate da da interpretazioni buoniste che che assolvono troppo facilmente con superficialità le colpe di di quella parte di italiani che purtroppo in quelle in quel contesto colpe ha avuto e devo dire che per quello che mi riguarda il mio è una prospettiva da magistrato a giurista di queste colpe noi le abbiamo raccolte le abbiamo e abbiamo continuato nel socco delle colpe cioè perché non abbiamo non abbiamo fatto giustizia e addirittura abbiamo perseverato nel nel non fare giustizia addirittura anche dopo che si parlava dell'ingiustizia è paradossale è stato citato il cosiddetto armadio della vergogna il fatto che all'inizio degli anni 90 casualmente grazie a ad alcuni giornalisti di inchiesta non grazie alle a quelle a quelle istituzioni che sono preposte all'accertamento dei reati ma grazie ai giornalisti si è potuto celebrare il processo il secondo processo per la strage delle forze addirittine il famoso processo PIC bene a seguito di quegli eventi di quegli eventi giudiziari si è aperta una stagione processuale giudiziaria che io chiamerei quasi un abseguito stagione giudiziaria perché a fronte di una mole gigantesca di fatti di crimini che si erano disvelati grazie appunto a una casualità a una inchiesta giornalistica non non si non si è prodotto praticamente quasi nulla e fra le domande che mi chiedo che mi vengono spontanea leggendo il bel libro di Vincenzo Sinavi c'è proprio quella anche di Domenico relativa a Domenico cioè la domanda del perché quantomeno dico visto che non si era fatta giustizia nei tempi giusti cioè nel dopoguerra non si è fatta poi giustizia almeno quando di queste ingiustizie cominciava a parlarsi all'inizio degli anni 90 cioè noi abbiamo avuto dei riflettori accesi dal punto di vista mediatico su delle inchieste giudiziarie che partivano da da questo evento da questa scoperta di questo di questo insabbiamento e di Domenico però non se ne parla e quando se ne parla cioè poi nel sempre grazie dei giornalisti sempre grazie a un servizio non a non a inchieste giudiziarie ma inchieste giornalistiche cosa si fa si fa un un'indagine e devo dire diciamo io inaspettatamente con andando in una direzione diversa da quella di 60 anni di di indagini giudiziarie sui crimini di guerra cioè si contestano due reati l'uso di mezzi di guerra evitati e rappresagli ordinate fuori dei casi consentiti dalla legge che nulla hanno a che vedere con questo caso si tratta di omicidio tutti i procedimenti penali militari per strage dai tempi delle forze abbiatine fino all'ultimo processo che ho istruito e portato al ribattimento nel 2013 per la strage di Cefalonia sono processi che hanno come perno l'articolo 185 del codice penale militare di guerra l'articolo 211 del codice penale militare di guerra cioè l'omicidio per i pigionieri di guerra e inaspettatamente invece nel nel 2008 la procura militare di Roma esercita l'azione penale in relazione a questi due reati che ho detto che dei quali non si attraccia nella giurisprudenza di 60 anni di indagini giudiziarie militari sui crimini di guerra oltretutto reati soggetti a prescrizione a differenza dei reati di omicidio abbastanza singolare questa prescrizione quindi mi sarei ecco l'unica se posso così dico fare una una buonaria critica all'amico Vincenzo Sinaglio al quale faccio tantissimi complimenti è quella di non aver chiesto diciamo come mai a che cosa è dovuto questo questa deviazione dalla giurisprudenza consolidata delle procure militari e dei tribunali militari italiani perché è davvero singolare così come anche la seconda domanda che mi da giurista da pubblico ministero che mi pongo è come mai per quale motivo nel momento in cui c'è una notizia di reato ben determinata ben definita su su un caso specifico su una strage quella di Domenico invece che scrivere sul sul fatto che riguarda Domenico si cerchi di fare un'indagine impossibile cioè un'indagine su tutte le strage avvenute nei Balcani durante la seconda guerra mondiale rischiando di rubare il mestiere malamente il mestiere agli storici e infatti nella conclusione di quel provvedimento di quella richiesta di archiviazione si dice che il giudice non deve fare lo storico questo è vero il giudice non deve fare lo storico deve fare il giudice però lo deve fare ricordo che a seguito dell'indagine che ho condotto appunto sui fatti di Domenico che ho aperto il giorno dopo il giorno sul 5 ottobre il giorno dopo il 4 ottobre il giorno dopo in cui avevo incontrato alla cerimonia per la commemorazione di Marzabotto il signor Psomiadis quindi poche ore dopo averlo incontrato alla luce alla fine di quell'indagine noi abbiamo avuto abbiamo riscontrato alcune diciamo tutta una serie di individuati tutta una serie di soggetti chiaramente responsabili di questi fatti alcuni dei quali sono scomparsi erano scomparsi abbastanza recentemente l'ultimo nel 2004 alcuni a metà degli anni 90 negli anni 80 quindi in in anni nei quali se fossero stati cercati se fossero stati indagati probabilmente sarebbero stati anche condannati queste sono domande che probabilmente ecco che rimangono insolute dal e che forse qualcuno dovrebbe porre qualcuno dovrebbe porre naturalmente alle persone giuste e e questo purtroppo diciamo è una perpetua quella amarezza che ho più volte espresso diciamo sia negli incontri con il signor Opsomia e sia anche in altre situazioni che riguardano per esempio la inesecuzione delle sentenze penali di condanna da il mancato risarcimento del del danno per i crimi di guerra tutte situazioni che perpetuano diciamo sostanzialmente un disinteresse delle istituzioni per le ragioni della povera gente come diceva appunto giustamente il signor Opsomia e che non mi non mi fanno passare ogni ogni forma di di ottimismo e e questo è stato il motivo principale per il quale nel 2019 mi sono recato al l'anno l'anno successivo alla chiusura delle indagini mi recai anch'io la come l'ambasciatore scarante a domenica una cerimonia commemorativa fui accompagnato dal suo successore l'ambasciatore Marras e feci anche e devo dire feci un'esperienza molto singolare perché io naturalmente in questi vent'anni in cui mi sono dedicato alle stragi ai crimini di guerra alle alle indagini su questi fatti ho partecipato a centinaia di commemorazioni e sinceramente partecipare a una commemorazione nella quale mi trovavo come istituzione diciamo sul banco degli accusati devo dire mi ha fatto un effetto particolarmente ecco incisivo non sono stato così come anche acutamente diffusamente descritto l'ambasciatore scarante ho avuto un'accoglienza molto generosa molto piacevole da parte dei greci che non nutrono nei confronti italiani alcun risentimento non cercano certamente vendetta ma cercano giustamente giustizia cercano diritto cercano considerazione quella considerazione che noi abbiamo negato addirittura diciamo omettendo di partecipare alle loro manifestazioni alle loro commemorazioni questo infatti è un grande merito che dobbiamo all'ambasciatore per avere per primo avuto questa sensibilità purtroppo però questa sensibilità non ha non ha trovato poi un uno sbocco concreto perché perché dalle ecco forse come è stato anche già detto da chi mi ha preceduto sarebbe stato molto più opportuno e sarebbe tuttora opportuno senza stato un gesto più concreto da parte dell'Italia da parte delle istituzioni per per fugare ogni dubbio sulla sulla lealtà della nostra sincerità del nostro atteggiamento verso verso questi verso questi fatti certamente disinteressarsi non considerare questa pagina della storia non ci allontana oltre che dal diritto oltre che dalla giustizia ci allontana anche dalla da popoli amici come quelli come quelli greci quindi il dal mio punto di vista l'impegno giudiziario a a svolgere indagini anche sui crimini commessi da noi italiani è stato particolarmente importante anche per cercare di dare un segnale agli altri paesi europei ai popoli amici che l'Italia che la giustizia italiana che il governo italiano che il popolo italiano è per per il diritto è per il è per la la giustizia non certo per per le ideologie come come quella del come quella del nazismo però questo bisogna bisogna fare bisogna fare dei passi concreti ecco e sinceramente provo dispiacere proprio da magistrato da pubblico ministero da procuratore nel constatare che che la pagina giudiziaria anche se diciamo avviata in qualche modo sollecitata casualmente come ho detto nel l'inizio degli anni 90 non si è sviluppata neppure in quella piccola parte che avrebbe potuto essere sviluppata e che avrebbe potuto dare un grosso significato se noi a metà degli anni 2000 quando ancora c'erano in vita alcuni dei responsabili di queste strade avessimo potuto effettuare un processo quindi portare a giudizio alcuni dei responsabili di quella strade sarebbe stato un grande successo sarebbe stato un grande segno di civiltà un grande segno di considerazione nei confronti dei nostri popoli amici e della giustizia abbiamo perso un'occasione importante e almeno non perdiamo quella l'occasione della storia almeno ecco cerchiamo di di conoscere questi fatti di farli farli conoscere di farli studiare di renderli pubblici e quindi da questo punto di vista sicuramente libri come quello di Vincenzo Sinapi dovrebbero essere molto diffusi molto conosciuti se ne dovrebbe parlare ma così come anche degli altri diciamo come quello di Conti di dieci anni fa insomma che sono ecco delle delle opere volevo dire quasi delle cattedrale nel deserto ma insomma ecco sono sono libri che non che sono poco conosciuti perché noi non amiamo riconoscere i nostri errori amiamo questo come dicevate anche prima voi amiamo il nostro il nostro buonismo italiano autossolutorio e quindi non non ci piace parlare di di certe cose quindi benvengano queste queste riflessioni benvengano questi libri benvengano iniziative istituzionali come quella che abbiamo messo in atto ciascuno per la propria parte istituzionale io e l'ambasciatore Scarante e speriamo che anche incontri come questo dibattiti come questo possano contribuire a smuovere le acque smuovere le cose e a ristabilire una almeno una verità storica ringrazio e passo la parola a Filippo grazie grazie a Marco De Paulis che ci ha detto insomma che purtroppo la pagina giudiziaria diciamo che si è chiusa prima ancora di aprirsi nonostante gli sforzi ha fatto De Paulis ma non ce l'abbiamo fatta ora diciamo così la la palla sta agli storici passa agli storici beh questa palla gli storici ce l'hanno già da un po' fra i piedi il problema e la questione è come riuscire appunto a fare in modo che libri come quelli che abbiamo scritto come quello di Vincenzo Sinapi non restino hai usato l'espressione delle cattedrali del deserto fare in modo che ci sia inneschino un dibattito pubblico un confronto una conoscenza ecco questioni importanti su cui ci confrontiamo e ci interroghiamo da tempo e ecco su queste questioni non facili chiedo di intervenire all'ultimo nostro relatore che è Lutz Klinkham prego Lutz Klinkham grazie e grazie a tutti che hanno parlato avrei molto volentieri sentito ancora di più degli interventi dei relatori precedenti perché sono stati affrontati temi estremamente importanti non parlo adesso cioè parlo non parlo della prefazione che abbiamo scritto con Filippo Focardi ma parlo soprattutto del versante tedesco che è stato venuto fuori già ampiamente e giustamente nei discorsi precedenti per una serie di motivi da un lato nel momento della strage di Domenico l'Italia monarchico fascista e la Germania nazista erano occupanti in Grecia hanno condotto una guerra in comune la guerra dell'asse Roma-Berlino e abbiamo anche sentito che la Germania nazista ha commesso una serie enorme di stragi di crimini vanno ricordati non solo in Grecia ma anche in Italia Isabella Insovibile ha parlato di conquare la Campania come esempio sappiamo anche dai processi che sono stati svolti grazie all'impegno di Marco Rebaunis di Sant'Anna di Sazema di Mazzabotto di Cefalonia quanta conosciamo la quantità e la qualità anche delle stragi commesse dalla Germania nazista sul suolo italiano e poi anche nell'Europa occupata però terzo motivo per il quale è importante ricordare il versante tedesco è il fatto che tanti ci sono anche tante analogie del percorso che è stato che è stato fatto negli ultimi anni decenni per quanto riguarda la scomoda memoria di questi crimini l'ombra della storia di cui ha parlato l'ambasciatore scarante è particolarmente eclatante anche nel caso tedesco e nel 2009 è stato il primo caso che un soldato tedesco della Wehrmacht è stato condannato per un crimine commesso in Italia nei confronti di civili italiani quindi anche in quel caso è stato un lungo processo anche decenni con tantissime archiviazioni e processi non celebrati anche da parte tedesca quindi non è assolutamente unico il percorso italiano è praticamente un pochino sfasato rispetto a quello che è successo in Germania dove io direi la caduta del muro di Berlino ha comportato una nuova fase una nuova consapevolezza il ritorno del volto degli assassini nazisti il vaso di Pandora che si è aperto anche grazie alla nuova documentazione che è venuta fuori dai paesi ex sovietici e si sono mossi tantissime persone anche a creare nuove certezze sul piano storiografico la verità della storia di cui si è parlato ricordo soltanto Gerhard Schreiber nel suo che ha fatto un importante volume sulla storia degli internati militani italiani maltrattati e anche uccisi dai loro ex alleati tedeschi e Schreiber quando uscì questo volume in Germania ha ricevuto delle minacce di morte da parte di ex soldati tedeschi della Wehrmacht e quindi non dissimile da dal discorso di cui abbiamo sentito l'onore dei soldati tedeschi l'idea di una di un esercito senza macchia era molto diffuso in Germania per tanti decenni durante la guerra fredda e ci voleva la fine della guerra fredda per iniziare una nuova fase alla quale hanno contribuito tanti storici non solo Schreiber ma anche stranieri come Christopher Browning nel suo libro sul battaglione di polizia che ha dimostrato che non c'era soltanto una violenza stragista del momento violenza talvolta anche calda tra virgolette rispondente ad una una guerra partigiana anche in corso ma c'è stata anche una violenza fredda organizzata dall'alto che ha fatto parte delle caratteristiche politico ideologiche dello Stato nazista e io direi grazie a questa offensiva da parte della storiografia è cambiato anche il clima nella società perché ci vuole questo e stiamo parlando anche di questo e con le azioni che abbiamo sentito cioè le azioni di Macri Paulis dell'ambasciatore Sgaranta ma nel libro di Vincenzo Sinapi queste sono azioni che contribuiscono anche a cambiare il clima nella società che per tornare all'esempio tedesco nei primi decenni post bellici nonostante Nuremberg e tanti altri processi fatti da parte dei vincitori contro generali comandanti come Kessler in processo degli inglesi nonostante tutti questi processi c'è stato quello che è stato definito un silenzio assordante per quanto riguarda la memoria dei crimini commessi e per rompere questo muro del silenzio ci vuole un lavoro preparatorio che poi permetta anche agli ambasciatori di frequentare i luoghi dove sono stati commessi questi crimini e direi che questo spartiacque nel caso italiano è venuto a cavallo del 2000 con importanti lavori da parte degli storici e credo è importante secondo me citare qui i lavori di Filippo Focardi che con a partire dalla sua tesi di dottorato ha affrontato il tema praticamente la rimozione delle colpe italiane della seconda guerra mondiale e dopo il 2000 sono usciti una serie di importanti volumi temi che trattavano un tema diciamo dimenticato appunto la guerra dell'asse e l'occupazione italiana dei paesi occupati e dominati grazie a questa guerra congiunta e la storiografia ha fatto dei passi importanti permettendo attraverso la ricostruzione di casi di politiche di occupazione ma anche di casi concreti di crimini di stragi a cambiare il clima nella società e di permettere ad un anche ad altri alla alla giustizia alla diplomazia ad agire e concludo queste brevi osservazioni non soltanto complimentandomi con Vincenzo Sinapi per il suo libro ma anche per ricordare che due mesi fa esattamente si è non celebrato il centocinquantesimo anniversario della costruzione dell'impero bismacchiano è praticamente caduto assolutamente in oblio e per qualche motivo sono anche ne sono anche fiero nel senso che la Germania odierna democratica non si non si riconosce in queste fondazioni in queste fondamenta dello stato bismacchiano ma si riconosce nella memoria delle stragi naziste e nel ricordo di questi misfatti causati da un regime dittatoriale di carattere nazionalsocialista e che ha creato dopo i 90 di questa memoria uno dei pilastri importanti anche della della sua ragione di essere come stato e credo che è stato un lungo percorso anche quello dai primi decenni dal 49 in poi e senza il contributo di tantissime persone che sono moste indipendentemente tra di loro questo esito non si sarebbe potuto raggiungere e trovo molto importante quello che le parole dell'ambasciatore quando ha detto l'Italia democratica di oggi deve ricordare i colpevoli e ricordare anche gli innocenti quindi con questa distinzione importante si contribuisce a mio avviso alla verità storica e alla ricostruzione storica e dare una possibilità di diffusione ai lavori degli storici e anche alla contestualizzazione di quello che è successo che non significa arrivare ad una colpa collettiva grazie 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 Lutz per queste importanti riflessioni caso italiano caso tedesco e anche perché vedo che l'ora è andata abbastanza avanti io passo subito la parola all'autore a Vincenzo Sinapi che credo abbia molti spunti nell'intervento oltre trarre molto spunti e anche molta soddisfazione devo dire perché assolutamente grazie Filippo grazie complimenti prego Vincenzo grazie Filippo grazie veramente a tutti lasciatemi dire quanto sia come dire felice e grato a tutti voi ma in particolare all'istituto Parri per avermi dato la possibilità di presentare qui per la prima volta il libro che come sapete è uscito da poco è un privilegio davvero poterlo fare in un ambiente così stimolante fatto di studiosi autorevoli tra sicuramente i massimi esperti di questo periodo e delle vicende storiche di cui tratta anche il libro mi riferisco naturalmente a Isabella Insolvibile a Filippo Focardi Luz Clean Cammer a Paolo Pezzino che abbiamo salutato prima di cominciare questo dibattito e che ci sta ascoltando un ambiente fatto anche di però protagonisti importanti degli eventi successivi e mi riferisco in questo caso invece all'ambasciatore Scarante che ce lo ha raccontato stato autore di un gesto che potremmo definire storico a mio avviso è molto interessante quello che ha detto ma mi riferisco anche a Marco De Paulis che è un magistrato che non ha bisogno di presentazione è stato il principale protagonista di questa stagione a lui non piace il termine stagione processuale però di fatto quello è stato che si è aperta in Italia dopo la scoperta dei fascicoli delle stragi naziste occultati nell'armadio della vergogna che comunque dei risultati li ha portati però è anche un ambiente questo in cui ci troviamo in cui in qualche modo e questo mi consente anche di partecipare con meno soggezione e una qualche relativa rilassatezza è un ambiente in cui mi sento a casa a casa mia questo del padre perché tutti voi siete anche degli amici alcuni di lunga data altri conosciuti da poco però in ogni caso amici che mi hanno supportato in vario modo nel mio lavoro hanno corretto errori hanno integrato il libro in modo decisivo naturalmente mi riferisco in questo caso a Filippo e a Luz oppure anche diciamo persone che come posso dire semplicemente ma non è poco mi hanno dato un esempio da seguire con la loro onestà intellettuale nel lavoro che ciascuno che ciascuno fa ecco quindi senza di loro questo libro sicuramente sarebbe stato un'altra cosa anche perché questo io vorrei precisarlo quando ho cominciato a lavorare a questo progetto sul domenico io non sapevo bene dove dove sarei arrivato in realtà la cosa che pensavo da giornalista da cronista era semplicemente quello di raccontare una vicenda sconosciuta perché nessuno la conosceva e le sue vicissitudini giudiziari però in realtà oggi posso dire di essere arrivato in un altro posto diverso che non mi sarei neanche mai aspettato e cioè sono andato in qualche modo oltre i semplici fatti cerco di spiegarmi meglio io sono un giornalista faccio questo mestiere l'ho sempre fatto da un sacco di tempo e come giornalista mi sono occupato anche della questione delle stragi naziste e poi della strage di domenico però il mio perimetro era ristretto cioè in definitiva a me cosa interessava mi interessava da cronista mi interessavano i fatti essenzialmente quindi il mio lavoro era come dire finalizzato soprattutto a ricostruire che cosa era successo sulla base delle testimonianze dei sopravvissuti degli indagati degli accertamenti della polizia giudiziaria concentrandomi poi sull'attualità quindi prima a dire che cosa era successo e poi l'attualità e in quegli anni l'attualità naturalmente erano i processi erano le condanne erano le mancate estradizioni tutta questa roba qua lavorando su Domenicon quindi con più tempo a disposizione avendo deciso di approfondire il tema per così dire con più tempo e con più materiale a disposizione mi sono anche però accorto che nei risultati giornalistici che noi facevamo di queste vicende veniva lasciata fuori una parte fondamentale di questa vicenda che la cosa su cui è incentrato il suo intervento Marco vale a dire le cause no? ma sia le cause del perché gli italiani si sono spinti in rappresaglie così illegittime così feroci più ancora dei tedeschi io devo dire apro una piccola parentesi su questo sono rimasto veramente scioccato quando leggendo tra i documenti che ho preso nell'archivio del tribunale militare sono incappato in uno in cui i comandi tedeschi in Grecia chiedevano a quelli italiani di essere meno brutali nei confronti dei civili greci ed è una cosa pazzesca no? cioè il nazista che dice all'italiano di essere più buono cioè basta questo per far cadere in un attimo il mito del bravo italiano e del cattivo tedesco comunque chiusa la parentesi quindi da un lato torniamo alle cause che noi giornalisti non abbiamo raccontato le cause di tanta ferocia dall'altro ma soprattutto ed è la cosa più importante secondo me non sono state raccontate le cause dell'impunità dei colpevoli cioè i motivi che hanno portato a questo gigantesco insabbiamento attenzione entrambi questi aspetti sono stati affrontati e spiegati dagli storici in modo direi anche abbastanza definitivo no? anche se non del tutto condiviso cioè conosciamo le difficoltà in cui si trovava l'esercito di Mussolini ed è stato raccontato bene anche nella perizia che Marco De Paulis ha chiesto alla professoressa Santarelli è stato bene raccontato il cambio della strategia che ha portato a colpire i partigiani là dove c'erano i loro affetti più cari quindi i figli le mogli vicini di casa considerati tutti complici quindi l'uccisione di civili come strumento di questa nuova strategia repressiva finalizzata in qualche modo a riprendere il controllo della situazione quindi questa è una spiegazione al discorso della ferocia di cui parlavo prima così come gli storici hanno dato una risposta anche all'altra questione per quanto riguarda la questione delle cause e del mancato svolgimento dei processi perché sappiamo quanto sia stato decisivo da questo punto di vista dover tutelare i criminali di guerra che si erano riciclati nel nuovo apparato statuale e anche con ruoli di peso conosciamo bene il peso della ragione di Stato della necessità di non alterare l'equilibrio europeo e mondiale nei tempi della guerra con fredda quindi delle risposte ci sono state tutte queste cose noi le sappiamo però quello che non sappiamo ed è la cosa di cui Marco ha parlato nel suo intervento è che cosa è successo dopo quando tutte queste esigenze ormai non esistevano più noi non sappiamo perché questo insabbiamento si sia protratto per decenni in realtà perché fino al 1950 ci possiamo arrivare per quanto riguarda le spiegazioni ma dal 1950 a quando Intelisano ha aperto finalmente la sua inchiesta sono passati 50 anni che cosa è successo cioè è stata cristallizzata una situazione di come dire giustizia negata che è stata peggiore se possibile rispetto a quella subita dai familiari delle vittime delle stragi tedesche perché lì se non altro dei processi ci sono stati tardivi tutto quello che volete delle condanne sono state emesse anche se nessuna è stata eseguita però un qualche ristoro queste persone l'hanno avuto dal punto di vista morale nel vedere condannare all'ergastolo tutta quella gente invece per i morti dell'Africa settentrionale della Grecia della Iuslavia non c'è stato nemmeno questo eppure le carte erano lì sette faldoni che sono quelli che poi ho controllato io stracolmi di atti di prove di testimonianze nomi cognomi c'era tutto e non era in un armadio erano nel tribunale militare di Roma però nessuno ha processato nessuno ora Marco dice dobbiamo porre delle domande e chiederci perché allora all'epoca sono state fatte queste domande perché ricordo articoli di Giusto Lisi intitolati c'è un armadio della vergogna due punto interrogativo ma poi soprattutto ricordo un'attività istituzionale finalizzata a rispondere a queste domande quella svolta dal Consiglio della Magistratura Militare al quale si è rivolto uno di loro cioè il PM all'epoca sostituto procuratore militare di Padovadini che ha detto ma insomma che cosa sta succedendo in tutto questo tempo che cosa è successo c'è responsabilità da parte di qualcuno e il Consiglio della Magistratura Militare ha risposto con una deliberazione del maggio 2009 ha fatto una deliberazione di un luogo a provvedere in quanto leggo testualmente considerati tutti gli accertamenti compiuti non ci sono allo Stato iniziative da intraprendere quindi in tutta questa vicenda sicuramente c'è un buco nero su cui è necessario fare chiarezza Un buco nero che ripeto è lungo 50 anni nel libro allora io racconto che cosa è successo in questi 50 anni naturalmente non accuso nessuno però leggendo la ricostruzione oggettiva dei fatti con tanto di documenti io credo che ciascuno potrà darsi potrà farsi la propria idea io ho concluso Filippo consentimi solo di dare una risposta Isabella per quanto riguarda il discorso della copertina noi eravamo consapevoli che quella foto fosse controversa perché conosciamo sappiamo che c'è un testo slavo del dopo guerra che spiega che i civili uccisi sono sloveni però dall'altro lato ci sono anche dei testi greci altrettanto antichi che usano quella foto per descrivere la strage di Domenicon quindi non c'è certezza e credo che non ci sarà mai perché di quella foto noi non conosciamo altro però proprio perché dubbio è proprio perché dubbia la foto noi nel libro non c'è una didascalia che la associamo a Domenicon anche se voglio ricordare di quel leccidio la foto la foto questa foto della copertina è sicuramente il simbolo però più in generale è la foto simbolo se vogliamo dei crimini che sono stati commessi dagli italiani nei Balcani quindi una foto conosciuta noto la strage nota la strage si identifica in questa fotografia e questo ci ha fatto ritenere che nonostante i dubbi fosse in qualche modo legittimo utilizzarla grazie Filippo ho parlato troppo scusatemi no no perfetto grazie Vincenzo grazie a tutti perché è stata veramente lo dico personalmente ma credo interpretare anche il punto di vista dell'Istituto Pari una serata molto bella abbiamo avuto un pubblico numeroso che ci ha seguito mentre parlavate la regia mi mandava i riscontri del nostro pubblico e ci ho seguito con grande attenzione ha anche formulato alcune domande però siamo arrivati alle 19.30 e purtroppo non c'è tempo adesso per porre le domande del pubblico e rispondere alle domande del pubblico eventualmente le potremmo inoltrare per mail a Vincenzo Sinati e a altri che sono stati chiamati in causa appunto con queste domande oltre alle domande sono arrivate anche tanti tanti complimenti a tutti noi per questa serata che appunto io trovo veramente importante stimolante e spero che davvero l'auspicio qual è? L'auspicio che si riesca a far partire un dibattito e quindi da questo punto di vista ovviamente l'auspicio è che questo libro possa trovare molti lettori molta attenzione recensioni anche se siamo in un momento particolare perché è inutile negarlo nella pandemia in cui ci troviamo l'attenzione del paese giustamente insomma è rivolta a questo momento particolare però superato appunto l'esigenza del primum vivere per così dire è veramente necessario sarebbe opportuno che gli italiani si confrontassero si confrontassero con questa pagina del loro passato una pagina fino adesso rimossa noi storici abbiamo provato anche a dire perché è stata rimossa e ora non riapriamo questo capitolo ma indubbiamente mi sembra che la strada la direzione la direttrice di marcia che emersa anche dalla discussione lucida appassionata che abbiamo fatto stasera indica l'esigenza per un paese maturo per un paese democratico che è un paese che abbia veramente la consapevolezza dell'importanza della sua storia quindi l'esigenza di confrontarsi con queste con queste pagine rimosse e io non mi resta davvero che ringraziarvi di nuovo tutti di cuore a nome a nome del mio personale e a nome dell'istituto anche anche Paolo Pezzino il presidente ci sta scrivendo adesso sulla chat che anche lui si complimenta per il per la serata per il dibattito e ringrazia anche lui tutti i tutti i partecipanti e speriamo insomma di magari di poterci ritrovare presto anche in presenza perché avevamo ipotizzato di fare questo incontro a Roma tutti insieme non è stato possibile per la ricrudescenza appunto della pandemia spero che quanto prima sia possibile ritrovarci magari fare in una bella aula universitaria potrebbe essere un'idea un bel confronto come quello che abbiamo fatto stasera e di nuovo quindi grazie a tutti grazie Vincenzo per il tuo libro in bocca al lupo veramente per questo libro spero che abbia un grande successo di pubblico e richiami veramente attenzione un confronto nell'opinione pubblica grazie a tutti voi davvero di cuore